Sabato 24 novembre si trarà in tutta Italia la 16esima giornata nazionale della colletta alimentare. Anche la provincia di Alessandria partecipa con entusiasmo per aiutare 21.000 persone povere che sono in provincia attraverso oltre 180 strutture caritative, ovviamente anche grazie al supporto del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Alessandria. Ne parliamo con Luigi Frati che è del Consiglio Direttivo del Banco Alimentare. Vogliamo ricordare innanzitutto che cos'è la colletta alimentare? Allora, la colletta alimentare è una giornata particolare che si svolge in tutta Europa e in Italia si svolge quest'anno appunto il 24 di novembre e porta a recuperare cibo, cioè a raccogliere alimenti per chi ne ha bisogno perché questi alimenti vengono attraverso i vari banchi alimentari diffusi in tutta Italia, dati alle strutture caritative, come ha ricordato lei in Alessandria sono oltre 180 e quindi vanno dalle Caritas alle San Vincenzo, alle parrocchie, a tutti gli enti caritativi e questi li distribuiscono alle persone che ne hanno bisogno. Quindi con questo gesto d'amore, diciamo, questo dono si consente a persone che in difficoltà di ricevere degli alimenti che sono importanti. Per tutta la giornata di sabato dei volontari e subito all'esterno delle case, all'esterno del supermercato che cosa faranno? Ecco, allora, tanto per incominciare a dare qualche dato, l'anno scorso sono stati in tutta Italia più di 120.000 volontari che hanno raccolto cibo in più di 9.000 punti vendita e hanno raccolto 9.600 tonnellate di cibo. In Alessandria quest'anno ci sono 450 volontari, sono coinvolti 140 punti vendita e in questi noi aspettiamo le persone per donare gli alimenti. Quindi praticamente siamo presenti in tutti i supermercati della provincia e nei centri storici in alcuni esercizi commerciali. Quindi quasi dovunque si possono trovare i nostri volontari che saranno felici di spiegarvi le motivazioni del gesto, di spiegarvi gli alimenti di cui abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di alimenti che siano a lunga conservazione. E questo per questioni di conservazione e distribuzione. Quindi abbiamo bisogno, tanto per fare un elenco, pesce e carne in scatola, legumi in scatola, alimenti per l'infanzia che sono molto importanti, olio, pelati, sughi e poi altri cibi ad altra lunga conservazione come pasta, riso e cose di questo genere.